Vi ho chiesto di iniziare a fare. Punto F attraverso Francesca R 28 maggio 2023 a cura di VB Michel. Male bene, bene male, non esistono. Esiste tutto perché tutto è la manifestazione dell'essere. L'essere contiene qualunque opposto, qualunque possibilità, qualunque forma esperitiva. E' contenuta nell'essere, perché l'essere è il tutto. Ma che cosa cambia a seconda dell'humus? Cambia l'ampiezza vibratoria che la coscienza inizia ad esperire su un determinato terreno. Quindi la vibrazione inizialmente sarà molto, molto, molto bassa. E' il caso specifico della vibrazione che state sperimentando su questo, diciamo, pianeta Terra. Serviva infatti partire dalla non conoscenza per permettere un ampio raggio vibratorio del divenire. E si è voluto l'incontro di vari esperire vibrazionali. Ancora non avete effettivamente consapevolezza. Parliamo sempre su larga scala, perché i fatti contengono solo avvenimenti sporadici. Non parliamo del piccolo momento dell'esperienza che uno vive, che non sembra così piccolo. L'incontro vibratorio completamente differente deve ancora venire, perché deve esserci una base vibratoria dell'incarnato un po' più elevata. Altrimenti manca la possibilità di dialogare con una coscienza incarnata a livello vibrazionale molto, molto più sottile. Altrimenti l'incontro proprio non accadrebbe, perché ci si soffermerebbe troppo sui particolari. Non si saprebbe bene che cosa sia davanti, se la limitazione del corpo fisico non del corpo fisico, perché mancherebbe la capacità della percezione. E' importante il lavoro di percezione delle energie che vi ho chiesto di iniziare a fare, perché è la base di una futura ampiezza vibratoria che può portare un incontro diverso nell'arco delle possibilità del divenire di due coscienze che hanno vibrazioni sì diverse, ma già un po' più elevate. Quindi è importante comprendere energie vibrazionali molto differenti rispetto al momento in cui si sono incontrate. Fino a qui vi è tutto chiaro? Fino a qui vi è... Grazie a tutti.